Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di assaggi. Sono tornata alla civiltà quindi ho di nuovo accesso a Daiso con le sue stranezze asiatiche con snack e bevande e a proposito di bevande sono appunto andata da Daiso e sono tornata a casa con questa, la Sarsi, che devo ammettere io non ho la più palida idea di che cosa sia, ho provato a leggere qui in parte ma non spiega nulla, a quanto pare è prodotta in Malesia e penso che appunto sia appunto un prodotto che arriva da lì appunto, un prodotto tipico probabilmente. Ho provato a cercare anche su internet se c'era una qualche spiegazione più o meno del sapore che dovrebbe avere perlomeno se ci sia qualche rassomiglianza con qualche altra bevanda ma quello che ho trovato si riferiva, cioè era riferito alla Root Beer che però non ho assaggiato, non ho la più palida idea di che cosa sia. Adesso andiamo ad aprirla, vado ad aprirla, la versiamo insieme e ve l'assaggio. Il bicchiere è pronto, è un po' troppa schiuma, comunque sia è particolarmente frizzante, almeno a versarla così, ed è comunque un colore scuro che ricorda un pochino quello della Coca Cola. Adesso assaggiamo e vi faccio sapere com'è. Adesso ha un odore veramente fortissimo e diciamo che è un po' anche nauseante, comunque cerco di assaggiarla e vi faccio sapere com'è. Escludendo l'odore che, devo dire, è un tipo puzza di piedi, anche il sapore non è malaccio, però ha un po' un retrogusto di piedi appunto, non lo so. E' quello che mi immagino sia il gusto dei piedi, perlomeno. Adesso provo... Mi devo dire, appunto, il gusto non è, ma, cioè, se ci si tappa al naso, il gusto non è proprio malissimo. Certo, non... Se dovessi andare in Malesian, sicuramente non me la prenderei come bibita. Neanche, comunque, se dovessi tornare da Daiso, me la sceglierei di nuovo come bibita, nonostante comunque siano particolarmente economiche. Io ho detto questo, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo assaggio, vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare sono molto attiva su Facebook, Instagram e Twitter, e vi ricordo anche che, se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like, potete condividere il video, in modo tale da farmi conoscere anche i vostri amici, e potete anche lasciare un commento se volete sapere alcune informazioni in più su di me, se avete qualche curiosità, eccetera. Niente, vi saluto, ciao! Grazie a tutti!